Ciao a tutti ragazze, oggi vi presentiamo la Nail Art Fashion Sticker perché utilizzeremo questi sticker della Essence in collaborazione con la mia amica Miriam che adesso andrà ad attaccarmi questo sticker sull'unghia in questo modo qui dovete stare un po' attente che non si formi l'aria sotto allo sticker perché altrimenti si creano delle bolle e si fanno delle sbavature quindi vedete la mia amica in maniera molto precisa e meticolosa aggiusta lo sticker sulla mia unghia noi per questa Nail Art abbiamo pensato di creare il French su tutte le unghie e poi solo sull'anulare di applicare questo sticker perché ci sembrava troppo eccessivo metterlo su tutte le unghie poi vi diremo anche quanto tempo durano e come durano sono delle Essence, ce ne sono di svariati colori e sono molto molto belli questo qui e questo rosa una volta che lo avete applicato adesso vedrete che Miriam andrà a tagliare sulla confezione vi dice di limare semplicemente noi però vi consigliamo di tagliare prima un po' lo sticker e dopo andrete a limarlo con appunto una lima e fate in modo che aderisca ben bene sull'unghia anche se si formano delle piccole bollicine non vi preoccupate perché con la pinzetta in questo modo con la parte alta della pinzetta aggiustate tutto come sta facendo sempre in maniera meticolosa la mia Miriam è molto molto semplice da fare ed è anche molto molto carina noi abbiamo pensato di farla in questo modo ovviamente potete anche applicarla su tutte le unghie a vostro piacimento deve essere il vostro gusto che deve avere la meglio in questo caso poi andate sempre vedete come sta facendo Miriam andate a schiacciare ben bene lo sticker proprio per fare in modo che aderisca bene e questo vi garantisce anche che lo sticker stesso duri di più perché altrimenti è facile che si sollevi in qualche movimento dopo aver fatto questo andrete ad applicare anche sopra lo sticker lo andate sempre a definire meglio come in questo caso applicherete mentre Miriam mi sistema lo sticker io vi faccio vedere andate ad applicare questo top coat gel look della Essence che già in qualche altro mio video ve ne ho parlato sempre che vi da l'effetto della colata e l'unghia in questo modo diventa molto ma molto lucida vi garantiamo l'effetto è molto molto carina ve la facciamo vedere in questo modo vedete anche Miriam ce l'ha sulla sua mano noi speriamo che lo sticker e la nail art in questo caso vi sia piaciuta vi salutiamo ne faremo altre in collaborazione io e la mia amica Miriam e ci vediamo al prossimo tutorial ciao